Che infame quest'uomo Mamma mia che matto che ti devi prendere Ma ti devi prendere un matto che Che neanche t'accorgi Mamma mia ragazzi Mamma mia voleva giocare sul tempo sto infame Che partitone C'ho il cuore a 200.000 C'ho il cuore a 200.000 Buongiorno e benvenuti amici di Matto Scacco Continuiamo questa serie che vi sta piacendo tanto Gioco fin quando non perdo Quindi giocherò una serie di partite blitz Con la speranza di farne tante E che il video uscirà a lungo Ciò significa che avrò vinto tante partite E poi il video si interromperà alla prima sconfitta Con la patta io direi che si continua Giochiamo blitz Giochiamo a 5 minuti 5 minuti può andare bene Dai 5 minuti può andare bene Vediamo che cosa ci capita Giochiamo senza incremento di tempo Ma appunto l'inventore Si chiamava Colle Però non a caso Si fa questa montagnetta Di pedone no Carina come cosa Il mio avversario sto giocando molto solido Molto Gioco molto corretto L'unica cosa che mi insospettisce È tutto questo tempo che sta mettendo Per fare le mosse Però Magari ci sta Semplicemente se la vuoi prendere con calma Ok Credo di aver la conferma di non giocare contro un motore Perché un motore H6 A questo punto della partita Non me l'avrebbe mai giocata Troppo prematura Troppo prematura È considerata una perdita di tempo Ora Su cavallo per Ho donna in D4 Con minacce quasi di matto Cavallo per Comunque minacce di matto Attenzione 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 Questa anche Sembra molto interessante Sì Minaccio cavallo F6 Alfiera H7 Scacco Mangio la donna Ok Ok Io quasi quasi lo faccio sto cambio Perché comunque Comunque questa è una bella minaccia Deve giocare G6 Se gioca donna F5 Potrebbe essere Potrebbe essere Però Non lo so Non so se questa è una buona mossa Credo sia l'unica Perché G6 in effetti non ce l'ha Forse dovevo giocarla prima Se prima di torre di 1 Ok Questa credo sia brutta Non so perché mi permette di entrare qua È vero che non c'è il matto Non c'è il matto Però Come minimo anche scacco qui Non è scacco qui Prendo qui Prendo qui Ma non so perché mi ha permesso questa Io rimango lì Senza saperne leggere Né scrivere Io rimango lì Cavallo Tu Riesci a essere utile nella tua vita Alfiere Pedone Qui deve esserci qualcosa di bello Non può non esserci Deve esserci qualcosa di bello Sto vedendo la possibilità di dare scacco qua Così lui si tappa E scendo qui ed è matto Quindi vediamo come si può dare Allora c'è B4 B5 B4 B5 E poi c'è lo scacco Così iniziamo a spostare la sua regina Quindi è vero che io c'ho questa Ma B4 Sposta la regina Io c'ho alfiere a3 Dai proviamo a fare questa Rischiosa ma Secondo me bisogna giocare così ora Sto lasciando in presa c3 Ma la mia idea è di portare l'alfiere qui Perché se lui si tappa Mettendo davanti l'alfiero al cavallo Io c'ho il matto Ma c'ho il matto qua Quindi mai fare entrare le regine ragazzi Mai fare entrare le regine Nei pressi dei vostri regini Sono molto molto minacciose Si B5 E alfiere a3 Se faccio alfiere a3 subito È anti sgamo Dove fare Ah Hai capito E se gioco b5 subito Se gioco b5 subito Io gioco b5 subito Scusa Scusami eh Se io gioco b5 Poi ti gioco alfiere c2 Ah io c'ho sotto la torre Attenzione 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 ragazzi Che c'ho sotto la torre Attenzione a sti giochini eh A parte che c'ho alfiere c2 subito Ce l'ho subito Tra l'altro Che è tenuta dalla donna Tra l'altro Benissimo 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 Adesso a4 Giusto A4 Dove mi arrivi con i4 Mi arrivi in c4 A4 Mi arrivi in c4 Io spingo qui E poi c'ho lo scacco Spingo qui Dimmi che non sto sbagliando nulla Ti prego Il cavallo deve andare via E c'ho Scacco qui Dimmi che non sto Perdendomi nulla Ti prego Dimmi che non sto Perdendomi nulla Ok c'ho questa Scacco qua Ah no Prima ci prendiamo il cavallo E se lui si prende la torre Prima ci prendiamo questa Oh che piaga sociale che sei Alfiere d2 Alfiere d2 forse c'ho prima Alfiere d2 Alfiere d2 c'ho prima C'ho prima alfiere d2 Alfiere d2 Giusto Giusto alfiere d2 Poi catturo c'ho sempre il tema Con alfiere b4 Perché se faccio subito questa Aveva cavallo b4 Forse no? Aveva cavallo b4 E si salvava Invece così E' vero che c'ha Donna per due torri Ok 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 si buona 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 Si doveva giocare Urco Addirittura dice Donna per d2 Potrei giocare questa Scusa Questa 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 E poi giocavo Ok ok Bella 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 Stata la partita molto lineare Ci è piaciuta ragazzi Spero che ci sia piaciuto anche a voi Andiamo a farci un'altra partita Molto lineare Lì Devo dire grazie al mio avversario Che mi ha lasciato andare lì Qui abbiamo un Avversario indiano Molto ma molto molto forte Che gioca il sistema Londra Un amante signore Un amante del Della grande Londra Vediamo questa regina Dove si vorrà posizionare Grazie per il centro Te ne sono estremamente grato Potrei fare lo sborone con F5 Però dai facciamo quelli che Ok abbiamo fatto arretrare Dietro un sistema Londra Ragazzi Sull'Accademia di Mattoscacco C'è London System K.O. Il corso che mi insegna A nientare il sistema Londra Col Nero Guardatelo È un investimento sulla vostra vita Sul vostro futuro È un investimento sul vostro futuro Questa non la vedo bene Dovrei giocare prima a 5 Sono alfiere 7 London System K.O. Ragazzi Fatto tra l'altro dal Maestro Fide Simone Pozzari Un corso che Mi ha cambiato la vita Mi ha cambiato la vita Allora Andiamo 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 Siamo carichi Siamo carichi Questo alfiere Gli daremo un posticino Riservato in prima classe Glielo diamo Glielo diamo Qui forse Glielo diamo qua E ora Ma penso che si giocherà un po' in modo Canonico questa Che va sempre fatta Ok attenzione alle scoperte qui Che c'è una bella batteria Importante Importantissima E ora la mia donna Vorrà fare qualcosa Nella sua vita Non è che rimarrà sempre qui A guardare le stelle Andiamo qua Attenzione alla debolezza Sul pedone di 5 Però qui penso che ci metterò Una bella torre Forse la torre in F Non lo so Devo capire Ancora come si Come andrà il gioco Devo ancora capire B5 Devo capire come va il gioco Se giocare su questa spinta Qui Io gioco Qui Va bene Gioco anche io con le due torri al centro Qui Ora c'ho questa Ora c'ho questa mossa Che sembra interessante Vediamo se solo Se solo fuffa Sì credo sia solo fuffa Credo che sia solamente fuffa C'ho questa Cattura Forse questa è buona Cattura Cattura Forse questa è buona Catturi col cavallo Catturo Ritorno col cavallo Devo fare prima Devo fare prima cavallo per Devo fare prima cavallo per Sì faccio prima cavallo per Prima di questa Sì Prima questa Cattura 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 Ho calcolato malissimo Sono un pedone in meno Ma che cacchio di calcolo Ho fatto Non lo so Vediamo se questa funge Vediamo se questa mossa funge Se mi attacca la regina A dove me ne vado Faccio regina per La torre entra qui Attacchiamo il suo pedone Adesso lui mi mette una bella Torre qua intanto E con una bella Torre lì Io vengo qua Attenzione a queste giocate G6 Penso che giocherò Appena possibile Il cavallo C6 Per attaccare il suo pedone Isolato No niente Attacchiamo il suo pedone Isolato Assolutamente Adesso bisogna attaccarlo Tolgo il cavallo E ho quattro attaccanti E ho quattro attaccanti E ho quattro attaccanti Che cosa vuoi fare Sai non mi capito cosa vuoi fare Vuoi ripetere? Vuoi andare a ripetere tutto? Sì 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 Se ripetiamo sono anche felice Azz 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 E me lo dici così Azz E me lo dici così No dai Non posso fare questa Proviamo Proviamo Attenzione eh Attenzione Qui sto Giocando col fuoco Sto giocando col fuoco Stiamo giocando col fuoco ragazzi Torniamo qua Giochiamo così E mettiamoci un cavallo qua Se riusciamo Così così Adesso ce lo mette lui Aiuto aiuto Ma questa Si può appigliare Sta roba qua Facciamo prima così E poi c'ho questo E che cacchio E cioè A un certo punto Uno deve essere anche onesto no? E che cacchio 46 secondi Recupera il pedone di svantaggio 46 secondi 46 Avrò fatto miliardi di errori Ragazzi commentate In cui sotto Tutte le miliardi di opportunità perse E ora questo è interessante Secondo me Perché attacchi Sono vari attacchi interessanti Molto interessanti Molto interessanti Molto interessanti Molto interessanti Molto interessanti Vince 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 la partita Non chiedetemi come E vabbè Scongiura Ma è cattivo Ma è cattivo Allora Contro la variante Del fianchetto In stile est indiana Io potrei suggerirvi E vabbè Adesso non è il caso Vi suggerisco Ora vi suggerisco Una variante Tamarra Che però Bisogna avere veramente Fegato per giocare E la variante E la variante Tamarra E' proprio questa Bam B4 La tamarragine Sta tutta nel giocare B4 Sta tutta nel giocare B4 E attaccare Sull'ala di donna Vediamo un po' Come si comporta Il nostro avversario Vediamo un po' Donna B3 Pedone Per foggia Ok 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 si Attaccherò Sull'ala Di donna Attenzione Qui ci sono Piccole robe Piccole robe Questo alfiere Qui Qui Ok dai Diamo un po' Di spazio Diamo un po' Di spazio Nei nostri pezzi Donna B3 E torre in F Va in C1 Va bene Si gioca Sull'ala di donna Si è scelto Si è scelto Di giocare Sull'ala di donna A volte Uno ha la tendenza A giocare sempre Sull'ala di re Perché vede il re Vuole dare matto Ma a volte Le cose più carine Sono proprio Dove meno Ce l'aspettiamo Esattamente Esattamente Ok questa Spinta qui Mi è piaciuta Perché ha indebolito Di 6 Ha indebolito Di 6 Mi vengono in mente Sacrifici Futuri Robe Ok perché Questa mossa Per attaccare Attaccare qui Dopo a 5 Io vengo qui Ok Credo che tu voglia Giocare A 5 Da quello che ho capito Si evince Che tu voglia Giocare In quel modo Cavallo in E4 F5 Cavallo qui H6 Cavallo qui E spinta su F5 Qui H6 Cattura qui Donna E6 Speriamo di aver calcolato bene Anche qua Speriamo Speriamo di convincere A fare F5 Così si indebolisce Il piedone E6 Intanto Premiamo Su questo piedone Debole E dopo B5 Veramente Un pochettino Di problemi Gli iniziamo a creare Gli iniziamo a creare Tosta Questa partita Tosta Perché non si capisce Bene cosa fare Questa spinta Eccolo L'ha fatto L'ha fatto Sacrifico Ah no Non posso fare E4 dopo H6 Al cavallo Donna Alfiere C4 Sacrificio Donna E4 Pedone Sacrificio No dai Ti prego Sacrificio Si ce l'ho Ce l'ho Ce l'ho Sacrificio Donna Per Donna Per Alfiere C4 Sacrificio Alfiere C4 Cavallo Qui Deve esserci qualcosa Deve esserci qualcosa Vabbè dai Facciamo che non sacrifichiamo Aaaaaa Non possono sacrificare lì Però va bene Va bene Va bene Non la vedevo Non la vedevo Dopo col computer Questa la perdo Vediamo se col computer C'era veramente qualcosa Creiamo una via di fuga A sto povero Cristo Creamola 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 Una via di fuga A sto povero cavallo Mamma mia Mamma mia Qui si gioca Sulla difensiva Signori Si gioca Sulla difensiva Ok Su questa C'ho questa Ma che cacchio di mossa Io ho fatto fare Qua Qua Si era per non andare Veramente troppo indietro G3 Andiamo qua Scacco No dai che brutta E sta mossa Ma perché faccio Ste mosse così brutte Re H7 Cavallo qui Cattura 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 Arca Vaca Sai che era meglio sacrificarlo qui Va bene Va bene Non è ancora finita Anche se è molto finita Questa è molto finita Questa partita È molto finita Io non lo so ancora Ma questa partita È andata Totale È andata totalmente Adesso cercherà il cambio delle torri E almeno Cerchiamo di attaccare Punti sensibili Va bene Mi vuoi dare il matto qui Mi sembra anche giusto È corretto da parte tua Posizione del Kaiser Posizione del Kaiser Unica Attenzione Attenzione Su questa qui C'è forse Scacco Potrebbe accadere la magia Potrebbe accadere la magia Scacco Vado qui Si piglia la torre Non sai che credo poco Alla magia In questi casi Vado qui Scacco Si mette di qua Di qui Di qui Va bene dai Giochiamo così Giochiamo onesti Fino alla fine Giochiamo onesti Fino alla fine Qui c'è questa Però Intanto Mi rifaccio qui Perché mi chiamate Quando ho 46 secondi Sul Sull'orologio Non vi risponderò mai Non vi risponderò mai Non mi chiamate Non mi chiamate Mi deconcentrate Mi deconcentrate Non chiamatemi Non chiamatemi Ah c'ho questa con tempo Io posso prendere matto Io posso prendere matto Credo eh Io credo che prenderò matto Questa Sono lì lì per prendermi matto Sono lì lì per prendermi matto Bruttissima situazione Bruttissima situazione Sono lì lì per prendermi matto Sono lì lì per prendermi matto Capendo Questa Questa Forse funziona Io ti cambio le torri Senti Io ti cambio le torri A sto punto E vaffanbagno Cioè Non ne potevo più Non ne potevo più Eh Sì Ok mi dai matto qua C'ho il matto Ok Ok Vediamo di fare qualcosa di serio Vediamo di fare qualcosa di serio ragazzi Ok Pochi secondi Pochi secondi Pochissimi secondi L'infame L'infame L'infamone 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 vuole vincere L'infame vuole vincere Sul tempo Sul tempo vincerà, non ci posso credere ma chi te l'ha detto? chi te l'ha detto che vinci? te l'ha detto qualcuno che vinci? te l'ha detto qualcuno che vinci? mamma mia che infame che infame quest'uomo che infame che infame quest'uomo mamma mia che matto che ti devi prendere ma ti devi prendere un matto che che neanche ti accorgi mamma mia ragazzi mamma mia voglio giocare sul tempo sto infame che partitore ho il cuore a 200.000 ho il cuore a 200.000 adesso mi ripiglio adesso mi ripiglio infame infame non permetterti mai più mamma mia il sistema colle il sistema colle che cosa non è? che cosa non è? difesa gli heking per disorientare mamma mia mamma mia mamma mia che cos'è? qui credo ci sia un errore di valutazione valutazione credo ci sia un errore di valutazione anche i 6 era bella secondo me forse i 6 di più ma tu di più ma tu di più ok riprenditi questo però facciamo un po' di casino questa è pericolosa questa è molto pericolosa molto pericolosa mamma che casino stai combinando tu alfiere e7 f6 se ti gioco f6 alfiere e7 f6 è inguardabile però è anche vero che guadagno un tempo attenzione dopo che lui c'ha alfiere di 3 con donna h5 f6 guadagno anche un tempo se cambio le donne in realtà sto bene perché comunque qui donna h5 eh si donna h5 donna h5 c'è c'è donna h5 donna f7 matto hai capito e se faccio questa immediatly se faccio questa immediatly cosa succede vediamo un po' intanto qui c'è un doppio intanto intanto qui c'è un doppio fino a prova contraria fino a prova contraria intanto c'è un doppio qua dai 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 che ci portiamo a casa anche questa su 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 che ci portiamo a casa anche questa ragazzi dai mi zia ma questo è tosto eh queste queste sono mosse toste queste queste sono mosse toste così è più giusto perché io ti mangio qua così così è più giusto è più giusto era più bello metterlo in fianchetto ma questa è più giusta perché mi permette di mangiare il cavallo wow wow partita sul filo del rasoio io vorrei solo portarmi a casa uno di questi due pezzi cioè non è che chiedo tantissimo per Natale non chiedo troppo un cavallo un vescovo vediamo vediamo dai secondo me deve tipo iniziare a sacrificare robe strane tipo urco ma che gratta per non dire altro sei un gratta mamma mia che fastidio che sei che fastidio di uomo ti mangio il cavallo tu mi mangi qui tra l'altro con minacce di matto potentissime mi ziga se sei un gratta capo se no beh ma dove le stai tirando fuori dal cilindro queste mosse cioè troppo forte no c per dc sono mosse bellissime queste tutte mosse bellissime belle su questa qui tu mi fai questa 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 sono mosse veramente belle di alta classe beh se gioco così non si può defare belle e che che faccio davanti a una mossa così mi tolgo il cappello giochi qui ti mangio qui gioco torre qua così devo fare tu mi mangi qui ti do la donna sulla torre così devo giocare credo credo che devo giocare così perché qui mi prendo matto o quasi aspetta donna c7 donna f7 matto quindi secondo me ha giocato veramente veramente bene quest'uomo e si merita la vittoria se la merita veramente se la merita veramente come pochi si bisogna essere onesti allora alla fine di tutto ciò lui è un più uno di materiale però questa donna credo sia veramente veramente forte donna qui che attacca qui che mi dà scacco c'ho cavallo bd7 cavallo f6 cavallo bd7 è la prossima mossa candidata cavallo bd7 per portare qualche pezzo sulla difesa del re perché se questo lo mando qui all'attacco si posso catturarmi questo ma onestamente ora come ora non me ne frega niente ok lui va per cambiare i pezzi lui gioca per cambiare i pezzi facciamolo a questo punto facciamolo l'alfiere andrà qua e il cavallo andrà a difendere il re cambio tutto si cambia tutto si cambia tutto si cambia tutto si cambia tutto difficile come partita per me difficile come partita da giocare da gestire bravo questo è forte comunque questo è forte guarda qui che mossa che mi tira fuori in tempo zero tra l'altro questo è forte questo è forte adesso c'ho una trappolina ovviamente c'ho una mini 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 trappolina però questo è forte io penso che abbia avuto anche una precisione molto alta in questa partita molto bravo meritata meritata amico io ho 24 secondi meritata meritata meritatissima meritatissima meritata portiamo una torre qua va ah io c'ho questa tra l'altro io ora ti sto minacciando questa in realtà si si ok sempre questa minaccia qua dimmi che non la vedi oh magari si va per la patta essere felicissimo con 16 secondi di andare per la patta 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 ti prego patta 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 ti prego patta Ah, brutte cose, brutte cose, brutte cose, brutte cose. Brutte cose, no, no, non c'è tempo, non c'è tempo per fare un minimo di strategia, non c'è minimamente tempo, non c'è tempo, non c'è tempo, non c'è tempo. no no bravo 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 molto bravo vediamo sulla revisione di questa partita perché ha giocato un'apertura secondo me molto molto bene è stato molto bravo secondo me ha giocato molto bene qui ok qui dovevo giocare 6 ecco da qui mi ha iniziato a creare problemi io ho giocato questa che sapevo che non era buona però mi sono lasciato ingolosire sul guadagno di tempo lui mi gioca questa geniale veramente geniale bravo questa qui cosa avrei dovuto rispondere f per g5 ma su f per g5 questa non era devastante perché dopo g6 questa 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 urco questa dice che si era giocabile ok molto difficile molto difficile molto difficile gioco così gioco così avrei dovuto giocare così però mi arrivava questa e al rocco corto avrei dovuto giocare mamma mia no non l'avrei mai vista sinceramente qui do la donna alfiere 6 cambio cambio questo questo si l'ho giocato molto bene qui ho cambiato tutto e niente qui poi ho avuto un barlume di speranza a un certo punto qui di poter gestire non so perché non ho giocato torre di 5 porca vacca qui lui mi ha cambiato mi ha forzato a cambiare le torri e poi con pochi secondi ma comunque secondo me era perso bene ragazzi spero che vi siete divertiti credo che sia uscita una bella partita belle partite però questo questo se la meritava il turco meritava va bene ragazzi ci vediamo alla prossima ciao